Siamo qui con il dottor Franco Guarnaccia, cardiologo presso il centro accreditato Angiocard, ASL2 Napoli Nord di Sant'Antimo di Napoli e presidente Arca Campania. Quanto è importante conoscere il valore del proprio colesterolo? È molto importante perché l'LDL colesterolo, innanzitutto dobbiamo sempre parlare di colesterolo cattivo, dobbiamo tutti quanti uniformarci a misurare l'LDL colesterolo, non più il colesterolo totale e il colesterolo HDL, perché l'LDL è stato dimostrato essere un fattore causale di malattia aderosclerotica coronarica cerebrale. E quindi è molto importante conoscere il proprio livello di LDL, prima si conosce, prima si può trattare e prima si può evitare l'esposizione per lungo tempo ai valori alti del colesterolo e quindi per prevenire la possibilità di un'insorgenza di una malattia aderosclerotica coronarica cerebrale. Ridurre i suoi livelli è ancora una sfida? Sì, sicuramente sì, perché oggi secondo le linee guida che si avvalgono di risultati di trial internazionali, noi dobbiamo raggiungere dei target l'LDL molto stringenti, soprattutto nei pazienti a rischio cardiovascolare molto alto, che sono i pazienti che hanno avuto un infarto, pazienti che hanno avuto un ictus ontia, pazienti che hanno un diabete millita da oltre 20 anni, pazienti che hanno un'insufficienza renale cronica avanzata, pazienti che hanno una malattia aderosclerotica superiore al 50% nella carotida o pazienti che hanno vascolopatia periferica. Questi pazienti dobbiamo raggiungere un target inferiore a 55 mg per decilitro e se hanno avuto un secondo evento nell'arco di due anni devono raggiungere un target inferiore a 40. Purtroppo quello che noi andiamo a vedere sul territorio è quello che solo il 10-15% di pazienti riesce a raggiungere questo target. Eppure abbiamo delle armi importanti, ci aiutano in questa anche le terapie innovative, però che cosa succede? Mentre abbiamo ridotto la mortalità per infarto, non abbiamo ridotto la mortalità a distanza di un anno dopo l'infarto, perché molti non sono ancora a conoscenza di quanto sia importante l'LDL colesterolo, tant'è che la prima pillola che sospendono nel post-infarto è proprio la terapia ipocolesteroloemizzante. Quanto sono importanti iniziativi come questa? Quanto è importante informare sul rischio cardiovascolare? Sono importantissime queste iniziative perché i pazienti ancora oggi non hanno consapevolezza di quanto è importante l'LDL colesterolo. Allora noi dobbiamo, e non solo questo, ma non hanno consapevolezza che dopo un evento aguto devono controllarsi nel tempo. E quindi noi dobbiamo educare questi pazienti ad abituarsi a controllarsi nel territorio e quindi a conoscere l'LDL, quindi misurarlo, perché se noi abbassiamo il target e raggiungiamo il target di questi pazienti, gli riduciamo un evento. E i controlli periodici praticamente possono essere fatti nei centri territoriali, di cui la Campania ha una distribuzione abbastanza diffusa sul territorio, perché il centro rappresenta il punto nel quale il paziente si rega e dove gli viene indicato il controllo da fare e le terapie adeguate per poter migliorare la sua prognosi e quindi il suo stato di salute nel tempo. Grazie, dottor Guarnaccia.